Ancora un commissario straordinario per la SAM a Pagani. L'amministrazione De Prisco ha delegato il responsabile del settore tributi e cultura del comune Alfonso Striano. Analogo ruolo era stato ricoperto tra l'altro anche dal comandante della polizia locale. Poi ci si era orientati verso la figura di Salvatore Bottone che ha declinato per incompatibilità con il suo lavoro all'Inps. La società in house a socio unico comune di Pagani si occupa tra le altre cose di pubbliche affissioni, controllo aree di sosta parcheggio, custodio villa comunale, area verde, villette minori e centro sociale, custodia e vigilanza del teatro auditorium Sant'Alfonso Maria di Liguori, manutenzione del patrimonio pubblico comunale compreso il verde pubblico, pulizia degli immobili e degli uffici di proprietà e o in uso al comune. L'investitura si è resa necessario dal momento che è in pubblicazione con scadenza il 10 settembre l'avviso per la nomina dell'amministratore unico della SAM azienda speciale del comune di Pagani ravvisata l'opportunità della nomina dunque di un commissario straordinario per garantire la continuità amministrativa dell'azienda speciale considerato che è indispensabile ed urgente stabilire la continuità amministrativa dell'azienda nelle more della procedura istruttoria di selezione dell'amministratore unico che occorre evitare qualunque soluzione di continuità nella gestione dell'azienda a cui sono affidati i settori delicati, in particolare quello dei rifiuti, garantendo con ogni urgenza procedurale la piena funzionalità degli organi aziendali che la delega da parte del sindaco di Pagani ad un tecnico è giustificata dall'urgenza di provvedere tempestivamente in tempi rapidi e certi all'individuazione dell'autorità che assuma in sé i poteri dell'amministratore e permetta al soggetto giuridico di espletare le proprie attività.